Ma non serve a nulla ricordare se non ci consente di imparare. E imparare significa capire dalla storia come dobbiamo comportarci in ciò che accade oggi. Anche nella guerra, anche la guerra può essere fatta in modo diverso. Anche nella guerra si possono rispettare o non rispettare regole umane. Ci insegna che nella guerra, quando un nemico si arrende, si rispetta e non si uccide. Ci insegna che nella guerra le donne, i bambini, gli ospedali, la comunità civile batte proprio fuori.